Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini scrive alla Befana e gli manda una letterina e dice che la Befana ci porti un vero ministro degli esteri. Chi è il ministro degli esteri? In questo momento è il grillino, il capo politico dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. Salvini è preoccupato per il ruolo marginale che ricopre l'Italia in questa crisi libica e in altri scenari che si sono aperti in queste settimane in tutto il mondo e poi sulla crisi iraniana culminata con l'eliminazione, come dicono negli Stati Uniti, del generale Soleimani. Quindi secondo il capo della Lega Luigi Di Maio non è in grado di ricoprire il ruolo di ministro degli esteri e commenta che stanno scoppiando guerre in mezzo mondo e lui fa i vertici con Zingaretti. Dice volevo essere una mosca per sentirmi questo vertice di altissimo profilo. Matteo Salvini sull'ironico, sarcastico. E poi aggiunge, in Libia stanno arrivando i militari turchi, ci sono i francesi, arriveranno gli egiziani e i russi. La Libia è di fronte a noi, è casa nostra, ci ama per storia, per cultura, per economia. Abbiamo imprese e lavoratori in Libia, per l'immigrazione è il principale canale, il principale problema e questi in quattro mesi sono riusciti a scomparire dalla Libia e far arrivare tutto il mondo. E poi lancia un appello alla Befana, quella signora, come si dice la Befana, che poi tutte le feste porta via e gli chiede di portare un ministro degli esteri che faccia il ministro degli esteri. Poi Salvini dice una cosa che fa riflettere, anche a voi vi farà riflettere. Donald Trump avvisa tutti, nel caso di un attacco a un paese straniero o un caso con quello del generale Soleimani, l'unico governo che non avvisa è quello italiano e dice noi sorridiamo ma non saremmo una grande potenza industriale, saremmo un paese fondatore dell'Unione Europea e terzo contributore dell'Unione. Non essere neanche considerati vuol dire che abbiamo un governo che è la minoranza della minoranza. Io farò il possibile per tornare e portare questo paese a votare. Beh certo, quello che dice Salvini ha ragione, l'Italia principale, uno dei principali alleati degli Stati Uniti, questo da sempre, uno dei paesi fondatori dell'Europa, una delle più grandi economie del pianeta, non viene avvisato dagli Stati Uniti di quello che sta per succedere quando vengono avvisati poi tutti gli altri paesi. Questa la dice veramente tutta, più di qualunque commento che io possa fare. Poi Salvini parla del caso della nave Gregoretti con i magistrati della sezione ministeriale di Trapani che vogliono procedere contro di lui per sequestro di persona aggravato e abuso di potere. E dice in questo comizio Piuttosto che processare me dovrebbero processare i ministri che prima di me hanno fatto sbarcare chiunque in questo paese senza fermare niente e nessuno. Se mi porteranno in un tribunale perché ho difeso confini, sicurezza e onore del mio paese, processeranno l'intero popolo italiano, non solo Matteo Salvini. E su questo ha perfettamente ragione. Questo che lui definisce proprio ieri un processo politico, quindi un processo contro la sua figura come politico italiano di un'area politica che non piace e che non è la stessa di questi magistrati che appartengono a un'area di sinistra chiamata magistratura democratica, a cui aderiscono, se non dico una sciocchezza, circa il 10-11% dei magistrati italiani. E rimanendo sempre sul tema dell'immigrazione, il decreto sicurezza di Salvini, i decreti sicurezza di Salvini entrano nel mirino dei medici perché viola la Costituzione. E così il presidente dell'ordine dei medici e dei chirurghi ha scritto a Giuseppe Conte e a Luciana Lamorgese, ministro degli interni, dicendo in sostanza modificare il decreto sicurezza viola principi costituzionali. I decreti sicurezza di Matteo Salvini concordati con tutto il governo contrastano in una parte, perché i decreti sicurezza parlano dagli stadi, tante cose, una parte di questi decreti sicurezza parlano del contrasto all'ingresso illegale delle persone nel nostro territorio, è contrasto all'ingresso illegale di persone straniere in maniera nel nostro paese. Qui non ci potrebbe essere nulla da dire, nel senso c'è una norma che rafforza la tutela dei confini e dell'ingresso di persone in maniera illegale, molti diranno che una norma così non può che non essere condivisa da qualunque persona che sia di centro-destra, di centro-sinistra, di centro... Voi vi ricordate anche Giuseppe Conte in versione Conte 1, non in versione Bisconte, ma in versione Conte 1 diceva che questo non è un qualcosa né di destra né di sinistra, il contrasto all'immigrazione illegale è una questione trasversale che non ha un'etichetta. Non è che se tu fermi il migrante illegale sei di destra, se tu gli dici vieni, vieni, vieni dentro, sei di sinistra. Io penso che anche tanti di sinistra non siano per l'immigrazione illegale, cioè non c'è un incasellamento, non credo che milioni di persone di centro-sinistra siano per l'ingresso indiscriminato di chiunque in Italia senza controlli, senza nulla, un paese senza confini, credo che non sia... Questo non esiste in nessun paese del mondo, l'eliminazione dei confini. I confini di uno Stato sono alla base della società di quello Stato e non penso neanche che tutti gli elettori di destra siano per fare entrare indiscriminatamente persone in maniera illegale. Quindi è un qualcosa di trasversale ed è un qualcosa di assoluto buonsenso. Io non trovo nessun tipo di giustificazione nel pensare che in Italia può entrare chiunque senza documenti. È un qualcosa che lo possiamo lasciare a dei gruppi di persone in Italia, come i centri sociali, sono persone di un certo tipo che pensano che sia giusto che gli Stati non abbiano confini. Va bene, ognuno può pensare quello che vuole. È una piccola minoranza il centro sociale che pensa a queste cose, però non può diventare un credo di milioni di persone di tutto il centro-sinistra. Io non ci credo, sinceramente non ci credo. Anche perché, attenzione, quando si parla di queste questioni si dice il governo di centrodestra è contro l'immigrazione. No, stiamo parlando di immigrazione illegale, non di persone che vengono qua per ricongiungimenti familiari, per lavoro, per stabilirsi nel nostro paese con tutti i documenti in regola e con tutte le credenziali. Nessuno di centrodestra ha mai detto mezza parola su una cosa del genere e penso che nessuno abbia niente da dire su un cittadino di un altro paese che arriva in Italia o per lavoro con i suoi documenti o per ricongiungimento familiare con i suoi documenti. Penso che nessuno, tranne, credo che anche qui ci sarà una piccola minoranza che vuole osteggiare qualunque ingresso in Italia di qualunque tipo, come ci sarà una minoranza da una parte che vuole aprire le porte a tutto il mondo. Quindi io credo che queste siano due piccole minoranze, chi è contro qualunque straniero e chi è a favore degli ingressi di qualunque tipo, ma devono essere due minoranze. Invece la difesa del confine nazionale, ma più che la difesa che sembra qualcosa di guerra, cioè il rispetto dei confini è alla base di ogni Stato democratico e anche non democratico che c'è nel mondo. Come dicevamo, da una parte c'è dei decreti sicurezza che contrastano l'ingresso illegale delle persone nel nostro territorio, dall'altra parte ci sono i detrattori che la norma, questi decreti sicurezza, queste norme avrebbero crismi di incostituzionalità e presenterebbe appunto i criteri discriminatori. Sentiamo che cosa dice quest'ordine dei medici, dice occorre modificare il decreto sicurezza, garantendo in ogni caso le prestazioni sanitarie a soggetti vulnerabili e persone bisognose di protezione e mantenendo come sancito dalla Corte Costituzionale sentenza numero 252 del 2001 la sussistenza di un nucleo irriducibile del diritto alla salute e protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Ma ho sentito bene, ma attenzione, quando arriva una nave carica di clandestini la prima preoccupazione del governo italiano è di andare lì con i medici a vedere la situazione, se ci sono persone che hanno bisogno di aiuto, gli viene dato l'aiuto immediato lì e poi vengono fatti sbarcare. Attenzione che in Italia si cura chiunque, non siamo come in quei paesi dove se non hai l'assicurazione, dici tu c'hai l'assicurazione, no, allora puoi crepare lì in mezzo alla strada. No, l'Italia è un paese che assiste chiunque il diritto alla salute in Italia e per chiunque, chiunque di qualunque nazionalità con documenti o senza, nessuno viene lasciato in mezzo a una strada, l'ambulanza tira su tutti, tutti, tutti e andiamo anche in mare a vedere quando stanno arrivando questi clandestini e anche se sono in acqua internazionale vanno i medici, vanno a vedere ci sono delle donne incinte, questa è grave, falla scendere, quegli altri dieci sono minorenni, falla scendere, quindi occorre modificare il decreto sicurezza, che cosa c'è? Ma che cosa c'è nel decreto sicurezza contro il diritto alla salute o alle cure mediche a chi sta per arrivare nel nostro paese in maniera legale o illegale? Non c'è scritto nulla, non c'è scritto nulla. Ovviamente se parliamo di navi che sono in acque internazionali e l'Italia va in acque internazionali con i medici è un qualcosa che l'Italia fa in più ed è lodevole tanto di cappello. Ma che cosa c'è nel decreto sicurezza che sia anticostituzionale? Attenzione, i decreti sicurezza e quello bis che realmente si chiama legge numero 54, non esiste la legge decreto sicurezza bis, si chiama legge numero 54, è stata passata al vaglio di uno staff e di costituzionalisti al servizio del Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica è un organo voluto dai padri fondatori come la magistratura, apriamo e chiudiamo le vericolette sulla magistratura, il Presidente della Repubblica è un organo di garanzia, è un organo di garanzia della Repubblica, infatti voi sapete che il Presidente della Repubblica non si mette nella politica, è una figura che non va nel merito. Il decreto sicurezza mi piace, non mi piace, voto a favore, voto contro, voto a favore? No. Il Presidente della Repubblica non va nel merito della legge, arriva la legge, la dà a uno staff di avvocati, di esperti costituzionalisti, valutano se in quella legge si può ravvedere incostituzionalità. Non, ah no, questo parla dei decreti sicurezza, noi che siamo di sinistra, quello è Salvini cattivo, allora digli che è incostituzionale. No. È un controllo reale, perché poi il Presidente della Repubblica vuol sapere, è incostituzionale, dimmi perché è incostituzionale. Non è incostituzionale perché mi sta antipatico Salvini. Eh no, è incostituzionale perché. Ma il decreto sicurezza, il primo, e il secondo, numero 54, la legge numero 54, nessuno di questi decreti, il Presidente della Repubblica, ha ravvisato delle incostituzionalità. Se no avrebbe detto, cari, caro governo, riprenditi la legge perché è incostituzionale e non presentarmela neanche più se non mi arrabbio. Questo è in sintesi, questo è in sintesi. Ma arriva il decreto sicurezza bis, firmato Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiana, firmato, con delle raccomandazioni. Le raccomandazioni non vuol dire che il decreto sia incostituzionale. Le raccomandazioni sono delle raccomandazioni. Come quando uno ti dice, guarda, stasera io esco con gli amici. Sì, guarda, mi raccomando, comportati bene, non fare, non bere. Stai dicendo che uscire la sera con gli amici è costituzionalmente illegale. No, ti sto dicendo, vai, però mi raccomando. Quali erano le raccomandazioni? Io ne ricordo una. Il Presidente della Repubblica diceva c'è la multa di un milione, da 250 mila a un milione per le navi che forzano il blocco, il divieto d'ingresso e entrano nelle acque territoriale italiane. Quindi, perché quando si dà 250 mila, quando si dà 400 mila, quando si dà 800 mila, quando si dà un milione, non c'è scritto da nessuna parte nel decreto com'è che si stabilisce una multa? Per favore, se volete magari introdurre in questo decreto come si modula la multa, non so, hai 10 clandestini e 250 mila, ne hai mille e ti faccio pagare un milione, dipende, dice per favore mettetemi questo. Però non si ravvedono profili incostituzionali, quindi l'ordine dei medici. Che cosa c'entra questa cosa? Adesso bisogna garantire la salute a persone vulnerabili. L'Italia l'ha sempre garantita, a dispetto di altri paesi, i primi che salgono a bordo sono i medici, medici italiani. Quindi non lo capisco. Di Maio ribadisce che il decreto di sicurezza non si toccano, come quota 100 non si tocca. Attenzione, Di Maio sta realmente difendendo le cose volute da Matteo Salvini. Quota 100, Conte, Di Maio è un pilastro, è un pilastro della manovra quota 100, vuol dire che è un qualcosa fatto bene. Decreto di sicurezza, Di Maio dice non si tocca, è un pilastro, l'abbiamo voluto anche noi. Quindi tutta questa cattiveria nel decreto di sicurezza sembrerebbe che non ci sia. Ricordiamoci che il decreto di sicurezza bis è stato fatto proprio dopo che la magistratura ha assolto Carol Arquette per non aver commesso nessun fatto. Illecito, criminoso, chiamatelo come volete. Quindi il governo è dovuto correre ai ripari per mettere un qualcosa che riesca a tutelare la volontà politica del governo e non avere l'introduzione a gamba tesa della magistratura che dopo che questa donna ha speronato la guardia di finanza e ha fatto una serie di reati dal speronamento di una nave da guerra, c'erano non so quanti anni di carcere per tutti questi reati, praticamente non è sussistito nessun fatto di questi. E così il governo è dovuto correre ai ripari e varare un decreto sicurezza bis per cercare di arginare i magistrati e non farli intromettere nelle decisioni politiche del governo, non amministrative, negli indirizzi politici del governo, che ricordiamo l'indirizzo politico di un governo è insindacabile. La magistratura non può intromettersi e dire non mi piace quello che stai dicendo. No, no. La magistratura come il capo dello Stato sono due organi di garanzia non sono due organi politici che si intromettono nella vita e nelle alte sfere della direzione politica appunto del paese. Intanto a Firenze un altro colpo a casa Verdini, vedete che la fidanzata di Matteo Salvini è la figlia di Verdini, il politico. I ladri anneriscono il ritratto di Salvini. Malviventi entrati nella villa mentre la famiglia era fuori città sono stati attratti da un'immagine raffigurante il leader della Lega, da tempo legato sentimentalmente alla figlia dell'ex parlamentare. Avrebbero fatto appunto irruzione e quando hanno visto la foto di Matteo Salvini con un accendino avrebbero dato fuoco annerito il ritratto appunto del segretario della Lega, proprio che è il fidanzato di Francesca Verdini, figlia del proprietario della casa. Quindi il ladro che entra, che deve rubare, la foto di Salvini, aspetta che posso fare a questa foto? Un ladro di orientamento di centro-sinistra, no? Un ladro odiatore di Salvini, fantastico. Diciamo che Salvini non si è fatto mancare nulla, c'è anche il ladro che quando vede la sua foto la annerisce. Beh, sono soddisfazioni, a parte gli scherzi. Io vi auguro buona giornata, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e non comporta nulla, è solo un sostenere il canale e questo fa sì che il canale sia più visibile e più importante. Con l'iscrizione però potete nella community partecipare a tanti sondaggi e commentarli. Se vi interessa siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi volete. In internet, fuori da internet, a casa, a scuola, in whatsapp, dove volete. Grazie e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.